Buongiorno a tutti, nell'ambito del festeggiamento dei 10 anni di sinestesia, oggi abbiamo l'onore di avere con noi un torinese d'eccezione che parte da Torino, ma che a dire la verità è famoso in tutto il mondo, ed è Mauro Berruto. Buon pomeriggio, grazie a voi per l'invito. Mauro, da dove cominciamo con te? Tu hai fatto veramente tantissime cose nella vita, hai fatto del trasformismo, delle tue caratteristiche principali, sei passato da sportivo allenatore di pallavolo, ad amministratore della scuola Holden, a di nuovo allenatore di un altro sport. Tra l'altro, devo dire che soprattutto nella tua carriera di allenatore di pallavolo sei stato uno dei miei eroi, in quanto hai vinto una medaglia olimpica a Londra 2012, la quale io ero spettatore, assolutamente coinvolto emotivamente in tutte le vicende della nazionale che allenavi. Quindi passi dal mondo del volley a quello della scrittura. Puoi raccontarci quali sono state le tappe fondamentali in questo tuo percorso di trasformazione? Mi sarebbe piaciuto moltissimo dirti, sai, ero molto forte a giocare a pallavolo, qualche mio collega ti direbbe, ero molto forte, poi mi sono fatto male, ho dovuto incominciare ad allenare, invece io ero sano come un pesce e non avevo il talento dell'atleta. Quindi la mia formazione, il mio background anche scolastico, universitario, è di tutt'altro genere. Io mi sono laureato in filosofia. La fortuna mia è stata quella di aver svolto quel mestiere lì in contesti anche culturalmente molto diversi uno dall'altro. Ne porto, oltre a tutte le città in cui sono stato in Italia, va bene, ma porto i due estremi, che sono i tre anni che ho passato in Grecia e poi i sei che ho passato in Finlandia prima della nazionale italiana. Allora, è chiaro che il mestiere è lo stesso, cioè tu devi cercare di vincere partite, ma allenare un atleta greco, allenare un atleta finlandese non è la stessa cosa. Anche le altre cose che tu hai citato e che ti ringrazio e che sono tutte parti importanti della mia vita nascono da due cose fondamentali. Una è una curiosità infinita, la seconda è la bellezza di una parola che ti chiedo di poter usare perché nell'ultimo anno è stata ovviamente utilizzata tanto, ma con un significato sempre negativo, che è la parola contaminazione. Dovremmo riappropriarci della bellezza della parola contaminazione e questo sarà un lavoro che dovremo fare post pandemia, cioè tornare a convincerci che la relazione, il contatto, davvero la mescolanza delle culture e delle esperienze è un fatto generativo. La parola di oggi è cultura e mi sembra che il tuo discorso sia assolutamente centrato in quanto fa parte della cultura saper contaminare le diverse esperienze. Mauro, nel corso della tua carriera sei stato un allenatore di pallavolo di successo e hai avuto risultati importanti sia in contesti europei, piuttosto che ovviamente il contesto olimpico di cui parlavamo anche prima. Qual è però il vero insegnamento che porti con te da tutte queste esperienze? Io ho avuto la fortuna di partecipare due volte ai giochi olimpici, una da assistente allenatore nel 2004, tra l'altro vincendo la medaglia d'argento con Gian Paolo Montale in quell'occasione, e poi la mia edizione, insomma, si è stato da Londra nel 2012 dove ero capo allenatore. E in entrambe le occasioni quello che ho imparato è la meravigliosa ispirazione che ti restituisce l'idea che tu prepari ossessivamente un appuntamento con un'attenzione ai protocolli, ai dettagli, ai particolari, per quattro anni veramente totalizzante. Tu dedichi veramente tutto a mettere tutto in ordine, arrivi perfettamente consapevole e pronto, grazie al lavoro che hai fatto nei quattro anni prima, e quando arrivi lì scopri che nessun parametro è uguale a quello che pensavi, che preparavi. scopri che esiste una meravigliosa dimensione dell'inallenabile nella prestazione che a noi allenatori piacerebbe eliminare, perché ci piacerebbe avere sempre tutto sotto controllo, avere tutte le soluzioni pronte a qualunque imprevisto succeda. E invece la differenza la fa quell'area inallenabile, perché è vero che non si può allenare inallenabile per definizione, ma si può allenare quello che tu fai, il modo in cui tu reagisci, quando ti si presenta di fronte una situazione che non potevi prevedere. Mi verrebbe da riflettere sul fatto che ci è capitato proprio in questo modo qua, 13 mesi fa, la stessa cosa. Naufragati su un'isola deserta, stavamo navigando, qualche volta c'era il mare mosso, qualche volta era piatto, però la nostra decisione era quella di seguire una rotta, il naufragio non è una decisione. Quello che tu puoi fare quando scopri che sei ancora vivo e ti svegli sulla spiaggia e non hai magari le cose che avevi con te sulla barca è decidere quanto puoi rispondere in maniera proattiva a quello che ti è capitato. E questa cosa qua io l'ho imparata certamente ai giochi olimpici. Mauro, tu hai allenato tantissimi atleti nella tua carriera, ma chi è stato l'atleta effettivamente più inallenabile come dicevi prima? Cioè quello che poi alla fine ti sorprendeva di più? Maggiore il talento, maggiore è il rischio che il processo di allenamento possa essere messo in discussione. Più una cosa ti viene facile, ti viene naturale, meno è naturale immaginarci di dedicare un sacco di tempo per migliorarla. Chiaramente ci mancherebbe altro, c'è qualcuno che abbina quelle due caratteristiche e quelli sono i campioni assoluti. Però a me piace sempre ripetere che il talento è un dono, poi ognuno decide da dove quel dono può essere arrivato. L'allenamento è una scelta. Allora a me piacciono i campioni e i talenti che decidono ogni giorno di validare quella scelta. Quindi se tu chiedi a me quali sono i grandi campioni che io ho avuto l'onore e il piacere di allenare, mi vengono in mente certamente due o tre nomi, uno fra tutti, non è un caso che fosse il capitano della mia nazionale, si chiama Cristian Savani, che è un meraviglioso esempio di un talento forse non straordinario, non assoluto, ma messo completamente a disposizione dell'allenamento. E poi mi vengono in mente dei grandi campioni che io considero tali, che sono giocatori che avevano magari un talento decisamente inferiore, ma che sono riusciti a tirare fuori tutto il loro potenziale grazie alla qualità e al lavoro dell'allenamento. Se tu pensi alla nazionale che io avevo a Londra, c'erano due liberi, uno Andrea Bari e l'altro Andrea Giovi, che sono due ragazzi che oggettivamente, insomma, sia per qualità fisiche che per altre situazioni, hanno avuto una carriera molto limitata in Serie A1, eccetera, ma sono due giocatori che hanno saputo mettere a disposizione della squadra il 100, forse qualcosa in più, il 100% del loro potenziale. La capacità di un allenatore nella fattispecie di pallavolo è poi quella di mettere insieme quelle tipologie di atleti. Mauro, sport e cultura sono due ambiti che hanno caratterizzato la tua vita umana e professionale. Quali sono le analogie tra questi due mondi? Guarda, ti rispondo trasformando quella E congiunzione nella E con l'accento, nel verbo. Sport è cultura. E naturalmente viceversa. A me piace invece tanto parlare di cultura del movimento. E quindi già qui le due parole trovano una sintesi diversa. Allora, questa che a me piace chiamare cultura del movimento, io credo che debba diventare, ed è un po' una battaglia che ho incominciato recentemente, debba diventare veramente un diritto costituzionale. È evidente, ma non perché è l'opinione di Mauro Berruto, ma perché ci sono migliaia di pagine di letteratura scientifica che lo dimostrano, che lo sport è, per esempio, un generatore di risparmio al Servizio Sanitario Nazionale, quindi dialoga in maniera diretta col diritto alla salute, che è previsto dalla Costituzione. È altrettanto evidente, nonostante dei modelli ormai antistorici anche essi, che sono quelli che guidano la scuola italiana, che una cultura del movimento va insegnata nelle scuole e in particolare va insegnata nella scuola primaria, che è il posto dove i nostri bambini dovrebbero imparare ad appassionarsi a. Noi non ci aspettiamo che i nostri figli che vanno all'elementare imparino le nozioni della storia, la data di morte di Napoleone, non ci interessa quella cosa lì, ci interessa che in quegli anni loro imparino ad appassionarsi alla storia. La stessa cosa dovrebbe succedere con lo sport, inteso in quella forma, cultura del movimento, perché la cultura del movimento deve essere un bene e un diritto del cittadino, ovviamente democratico e accessibile. La parola sport scritta nella Costituzione cambia un paradigma, dà una dignità nuova, permette a quel diritto di dialogare come dicono a Siena nei giorni del Paglio per forza e per amore, che ti piaccia o meno, con altri due diritti fondamentali che sono quello all'istruzione e alla salute e guarda aggiungo e completo la risposta alla tua domanda ricordandoci che una nuova dignità della disciplina ci permette di mettere a fuoco un'enorme potenzialità dello sport che da una parte fa muovere i corpi e quello lo sappiamo bene, dall'altra ha questa grande capacità di ispirare le persone. Nella tua autobiografia del 2019 che si chiama Capolavori, non a caso, c'è una storia veramente meravigliosa fra le tante che vengono raccontate che riguarda l'ospedale psichiatrico giudiziario di Montichiari e penso che sia la sintesi perfetta di quello che è poi il tuo concetto di allenare e penso anche che come dichiari effettivamente nell'autobiografia questo ti abbia veramente cambiato quindi che cosa significa per te allenare e se ci puoi raccontare una parte di questa storia almeno che è una storia veramente fantastica che dice veramente molto di te. Io sono molto legato al sottotitolo di quel libro il cui titolo è Capolavori nel senso di possibilità e capacità di piena trasformazione di un potenziale in una prestazione però dicevo il sottotitolo del libro che sono tre verbi fondamentalmente allenare e adesso arrivo a risponderti alla domanda che cosa sia il gesto di allenare allenarsi lo stesso verbo al riflessivo perché non dobbiamo mai dimenticarci che quella parte che è l'allenamento riguarda anche noi allenatori diciamo così fuori di metafora e poi c'è un terzo concetto che è guardare altrove guardare altrove è un concetto molto antropologico che torna alla nostra prima domanda nel senso questa idea di saper andare a confrontarsi e a misurarsi con dei mondi diversi che cos'è il gesto dell'allenare guarda ovviamente c'è una parte di competenze tecniche tattiche che si imparano che si sviluppano che si prendono anche come dire grazie a dei modelli di riferimento che tu studi e così via però io credo che fondamentalmente allenare non sia altro che allenare il desiderio di c'è una bellissima frase che io uso sempre quando voglio spiegare che cosa sia il gesto dell'allenare è una frase non di uno sportivo ma di un poeta che è Antoine de Saint-Exupery e la frase è quella famosa se vuoi costruire una barca non insegnare ai tuoi uomini la tecnica a inchiodare a tagliare la legna e a dividere i compiti in quella maniera ma insegna loro la nostalgia per il mare aperto infinito questo è allenare questo è il gesto dell'allenare allenare il desiderio di e così arrivo anche all'altra tua sollecitazione che è un ricordo splendido io allenavo a Montichiari in serie 1 e allenavo anche la Finlandia nella stagione estiva e venne avvicinato da questi responsabili della struttura sanitaria dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere che tecnicamente è in provincia di Mantua ma è lì a pochi chilometri da Montichiari ospedale psichiatrico giudiziario per capirci è il vecchio manicomio criminale per essere più diretti nella narrazione e insomma loro volevano tentare con lo sport volevano proporre un progetto di sport a un gruppo di detenuti e quindi proposi mi piaceva l'idea mi piaceva anche l'idea di usare la pallavolo proprio per quelle ragioni che ti dicevo prima del passaggio però dissi guardate proviamo a fare una cosa io mi impegno a ospitare queste persone nel palasport di Montichiari il lunedì quando il palasport è chiuso perché è il giorno di riposo creando le condizioni come se ci fosse la partita di serie A quindi tutto acceso la rete bella il pallone bello la maglietta della prima squadra voi provate a proporre questa cosa a un giudice che sia sufficientemente illuminato per permettere dietro responsabilità di tutti che questo gruppo di persone uscisse dall'ospedale psichiatrico e venisse a fare questa attività a Montichiari partimmo con questa cosa per cui per sei mesi tutti i lunedì questi ragazzi venivano ad allenarsi nel palasport di Montichiari in quelle condizioni questa esperienza finì con un momento hollywoodiano cioè un torneo contro delle squadre composte da studenti della scuola superiore di Montichiari dove vincevamo addirittura un set e quindi ci sembrava già una roba straordinaria ma la cosa più straordinaria successe qualche mese dopo la fine di quell'esperienza perché tornarono questi operatori dell'ospedale psichiatrico giudiziario con dei report dove era scritto che i partecipanti a quel progetto dal giorno 1 in cui il progetto era iniziato all'ultimo giorno in cui era terminato avevano dimezzato ridotto del 50% le necessità farmacologiche a cui erano sottoposti l'obiettivo raggiunto sia quello soggettivo diciamo così stare in campo e vincere un set sia quello oggettivo consumare il 50% di farmaci in meno era esclusivamente legato alle condizioni di bellezza all'interno dei quali quei ragazzi avevano operato e cambia tutto cambia proprio il modo in cui tu guardi alla tua professione cambia anche il modo in cui guardi fuori dalla tua professione prima parlavamo di limiti una delle personalità più competitive dello sport moderno che ovviamente conosciamo tutti che è Michael Jordan nel discorso che lo ha portato ad essere insignito di una delle onorificenze maggiori della storia dello sport e del basket in particolare quindi l'ingresso nella Hall of Fame disse una frase riguarda i limiti veramente incredibile che vado a leggere era mai dire mai perché i limiti come le paure sono spesso soltanto illusioni guarda io credo che i limiti siano lì proprio per farci capire quanto fortemente vogliamo una cosa mi viene da sorridere perché io se penso non solo alla mia carriera sportiva ma alla mia vita mi sono sempre messo di fronte a cose che non conoscevo ti ho raccontato il background universitario filosofia la pallavolo dopo la pallavolo l'hai citata la scuola Holden in un ruolo amministrativo dall'amministratore delegato per cui ovviamente dovevo imparare tutta la serie di tecnicalità che non mi appartenevano poi il tiro con l'arco una disciplina che non conoscevo e tante altre esperienze è chiaro che di fronte a quelle situazioni tu hai due scelte una è quella di dire vabbè in questo momento non ho intenzione di crearmi ulteriori problemi un'altra è quella di dire bene questo è il contesto in cui io voglio muovermi e se tu sostituisci la parola problema con la parola contesto sei già nel campo della ricerca delle soluzioni perché un problema sai può essere una sfortuna qualcosa che non dici non mi meritavo non è giusto che sia capitata perché proprio a me se invece tu definisci contesto la situazione che ti sta circondando vai alla ricerca delle soluzioni per muoverti in quel contesto lì con efficacia è interessante il concetto di limite perché superare un limite ad esempio in sinestesia vuol dire fare innovazione perché superare un limite esattamente come un atleta quando supera un limite si migliora nella nostra realtà superare un limite magari vuol dire andare a scoprire un lato della tecnologia e dei processi che noi non avevamo preso in considerazione quindi si tratta poi di cambiare di trasformarsi di innovare e quindi di migliorare tra l'altro l'innovazione si trova sempre all'incrocio delle competenze cioè tu puoi essere un grandissimo e bravissimo taxista poi puoi avere la passione della programmazione sullo smartphone delle applicazioni se incroci quelle due competenze e inventi Uber allora hai fatto innovazione Mauro adesso arriviamo all'ultima domanda che è un po' quella da sfera di cristallo no? quindi la facciamo a tutti e per tutti in fondo è la domanda più difficile quindi che cosa ci dobbiamo aspettare dal nostro futuro che cosa vedi nei prossimi dieci anni come sarà il mondo fra dieci anni e come saranno lo sport e la cultura nei prossimi dieci anni questi ultimi tredici mesi quattordici quindici quelle che diventeranno sono un'occasione di discontinuità gigantesca e ci sono due possibilità la prima è di resistere a quello che succede caparbiamente e testardamente e di tornare uguale a prima che sarebbe significherebbe avere due problemi cioè quello che è stata la tragedia del coronavirus insieme al fatto di non aver imparato niente la seconda possibilità e sottolineo possibilità quindi una scelta è quella di calarci in un contesto generativo di una serie di nuovi modelli che vadano a sostituire i modelli precedenti che sono andati in crisi e si sono polverizzati in alcuni casi certamente anche grazie al coronavirus in virtù del coronavirus ma che certamente non stavano bene neanche prima perdonami l'altezza del riferimento ma è proprio come quando Altiero Spinelli scriveva il manifesto dell'Europa a Ventotene e fuori c'erano ancora i lager il nazismo il fascismo proprio in quel momento lì lui ha alzato lo sguardo e ha immaginato un'Europa diversa noi dobbiamo fare la stessa cosa nelle nostre rispettive competenze questo vale per la transizione ecologica vale per l'innovazione vale per la digitalizzazione vale per la parità di genere vale per lo sport vale per la salute vale per la telemedicina cioè è una serie tra l'altro ho citato non casualmente tutte le aree di missioni del recovery fund che sarà una gigantesca occasione occasione once in a lifetime però che se noi interpretiamo con gli strumenti novecenteschi rischiamo veramente di buttiamo via sì certo allora ripeto non voglio fare retorica perché ci sono cento e diecimila persone che non ci sono più ci sono categorie commerciali in ginocchio cioè non voglio dire che questa è stata una benedizione dal cielo ci mancherebbe altro però questo è un momento di discontinuità e noi da un momento di discontinuità possiamo scegliere come uscire se rimettere le lancette indietro e sperare che tutto torni come prima che significa perdere una grande occasione o veramente costruire dei modelli nuovi beh siamo arrivati al termine io veramente Mauro ti devo ringraziare perché sei stato veramente un ospite eccezionale e sono veramente felice di aver fatto insieme a te questa intervista perché sei stato veramente inspirational e quindi siamo davvero contenti di averti ospitato e insomma speriamo di vederci presto e di fare tante cose insieme grazie a voi ribadisco gli auguri per il compleanno che è sempre un bel modo di guardare anche un po' indietro la storia che uno ha alle spalle ma è sempre una bellissima occasione per guardare avanti quindi insomma sinestesia è una delle eccellenze della nostra città è un luogo dove si fa innovazione come tu stesso ricordavi prima e quindi insomma buon compleanno ma 10, 20, 30, 50 anni di futuro da costruire insieme insieme rischio insieme 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 Grazie a tutti.